Bene amici e mica, tutti abbiamo budget altissimi per uno smartphone nuovo, soprattutto chi non ha grandi esigenze, allora capire quali sono i papabili sotto ai 200 euro aveva secondo me senso. Ed eccoci qua col confrontone, secondo me a questo livello di prezzo è importante anche sapere cosa c'è dentro la scatola di un telefono, perché magari non è che abbiamo un grande budget per prendere il caricabatterie, la cover eccetera eccetera eccetera. Allora il primo smartphone è il C67 di Realme appena presentato che ha dentro sia la coverina sia alimentatore che il cavo, eccolo qua, il secondo è la 15 pur non avendomi convinto tanto, ma secondo me un Samsung ci stava nel confronto perché ci sono gli aficionados al marchio eccetera eccetera eccetera, ma ragazzi una mazza qua non c'è se non il cavo dati null'altro. E poi il Redmi Note 13, anche qua c'è una coverina devo dire bella, non trasparente, nera e anche qua c'è sia il cavo sia il caricabatterie. E l'ultimo pretendente, allora di listino costa più di 200 euro ma con i coupon, ma di suma, insomma l'ho voluto inserire anche perché a me personalmente piace il design, però sappiate che per trovarlo al prezzo sotto i 200 euro bisogna un po' lavorare per cercare le offerte. Comunque coverina trasparente c'è all'interno, cavo e anche il caricabatterie. Ma eccoli qua, partiamo subito con il design, con come stanno in mano, touch and fill, 185 grammi 7,6 mm, 200 grammi 8,4 mm. Qui abbiamo un telefono, ma ma quante ditate? Allora, sono tutti accomunati quelli lisci dal fatto che rimangano tante ditate perché la back cover di tutti questi telefoni è in plastica, bene non si rompono, male quando la plastica è lucida, tiene tanto ditate, poco oleofobica. E' l'unico, il Redmi Note 13 4G ad avere sensore in proto digitale sotto al display e poi l'Honor X8B, 166 grammi, è il più leggero, devo dire il più ergonomico da tenere in mano e a me piace tanto questa impuntura posteriore. E' anche il più sottile, 6,8 mm. Sono tutti squadratini, ma guardate la differenza delle cornici dove il Samsung sembra veramente un telefono retro. Comunque Realme e Honor sono i più comodi. Per quanto riguarda il display c'è una grande differenza tra il Realme che è l'unico IPS, però devo dire un bel IPS e luminoso rispetto a tutti gli altri che invece hanno un display AMOLED. Solito video 4K HDR di testo, ve lo faccio vedere su tutti e quattro i telefoni, ma quale specifiche un po' ci raccontano come si vedono. 90 Hz, 950 nits, 6,7 pollici, 6,5 pollici ma non è più piccolo il telefono, è solo più piccolo il display proprio perché ha grandi cornici. Il Samsung però è Super AMOLED, anche lui 90 Hz, 800 nits, non è dichiarato il picco massimo di luminosità che è di 1800 nits e 2000 nits rispettivamente sul Redmi e sull'Honor che sono 6,7 pollici di diagonale. 120 Hz il Redmi, 90 Hz l'Honor. Voi direte, ma mia nonna per la quale compro questo telefono, a mia mamma che non gliene frega niente, c'è differenza? No, vi posso dire che sono tutti dei bei display, anche l'IPS perché è relativamente luminoso quindi va bene, ci sta. Mi concentrerai di più forse sulle differenze hardware e di memoria perché tipicamente chi va su questa fascia di prezzo è chi viene da un telefono comunque base di gamma e tipicamente il problema di un telefono base di gamma è non tanto la velocità perché magari, ripeto, le esigenze sono altissime, Whatsapp, Instagram, insomma quelle robe lì, ma alzate la mano se mai vi è capitato di Devo cambiare il telefono perché Whatsapp, devo cancellare altre volte le foto, non mi arrivi più il messaggio, ho la memoria piena, non riesco più a fare la foto, non mi va più questa roba, insomma il problema sostanziale e principalmente è di memoria. Non a caso secondo me tutti e quattro hanno l'espansione di memoria. L'altra cosa interessante e importante è l'autonomia e qua vi rassicuro perché tutti questi quattro telefoni hanno un'ottima autonomia, 5000, 5000, 5000, 4500 mAh per quello che è più leggero, più sottile e più maneggevole ma vince il Realme con il 45% a sera, carica 33W, Samsung carica 25W, 40-45% a sera, carica a 33W il Redmi con un'autonomia sera del 30% così come l'Honor 30% anche se la batteria è più piccolina, probabilmente è un processore un po' più efficiente e carica 35W, oltre che più efficiente è anche un po' più deficiente ma adesso ci arriviamo perché parliamo proprio di hardware. Il Samsung a me ancora una volta devo dire che è la pecora nera del gruppo, non tanto per la memoria 128GB, sono tutte UFS 2.1, 2.2 quindi la velocità delle memorie è simile ma la RAM cambia, 4GB di RAM che su un Android 14 fanno la differenza perché oggettivamente è molto lento, le applicazioni si chiudono in background perché non ha la RAM per tenerle aperte, per esempio fate una storia Instagram, poi uscite dalle storie Instagram e dovete rifare tutto ovvio che non è un telefono fatto per le storie Instagram, nessuno di questi telefoni è fatto per quello ma è molto lento, guardate la reattività nel chiudere l'applicazione, la reattività nell'aprire magari Facebook, nello scrollare insomma sono tutti usabili ma davvero il Samsung è molto molto lento e lagoso tra l'altro se andate a vedere la comparazione con l'A25 è stranamente lento e lagoso man mano che lo si utilizza cioè più lo si utilizza, ovviamente questo è una questione di RAM, più diventa lento e il Samsung è veramente inchiodatone, lagosone e anche legatone altra cosa che forse interessa solo a me ma il feedback della vibrazione, qua ci sono tante differenze tra questi tre smartphone perché se il Realme ha una vibrazione abbastanza buona, un po' zanzarosa, nessuno di questi telefoni ha un'ottima vibrazione intendiamoci, hanno tutti i motorini per risparmiare abbastanza zzzzz, nessuno c'ha proprio il feedback pam 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 preciso il Samsung ce l'ha anche lui abbastanza potente ma ancora con più coda e mollosa stessa cosa del Redmi che ce l'ha addirittura mollosa, zanzarosa ma meno potente invece il X8B di Honor è davvero leggerina come vibrazione, insomma si rischia di perdersi qualcosa e allora la chiave, la memoria, secondo me forse la cosa più importante per scegliere un telefono low cost Realme 8GB di RAM, 256 con il triplo slot, quindi potrete mettere due SIM più l'espansione di memoria e è l'unico ad avere questa possibilità, Galaxy vi dicevo 4128 con doppio slot, quindi o due SIM o una SIM più l'espansione stessa cosa il Redmi Note che però ha 6GB di RAM, 128 di memoria, 8, 256 slot doppio il X8B però vi sto dicendo che lui non sta gareggiando proprio a darmi pari per quanto riguarda il prezzo di acquisto due sono con l'Android 14, il Realme e il Samsung, Samsung è l'unica che dichiara 4 major update e 5 anni di aggiornamento ma se è già lento adesso, sono 5 anni, vabbè, gli altri non dichiarano per quanto supporteranno Redmi e Honor ancora Android 13, patch abbastanza aggiornate, sono tutte tra il novembre e il dicembre del 2023 23 aggiornamenti diciamo in media, quello che spicca è il Galaxy, ma il software in generale mi è piaciuto su questo Realme perché la nuova interfaccia con Android 14, finalmente le applicazioni duplicate quasi non ci sono è molto più stock, molto più Google centrico, unica cosa, swipe a destra, non c'è discovery di Google quindi tutto il feed di notizie è quello che c'è praticamente in tutti gli altri smartphone Samsung molto molto personale, la UI, la user interface, chi è abituato ci si troverà a casa ma c'è tanta duplicazione di applicazioni e poi come ci ho prima forse pesantezza di sistema operativo per le prestazioni quindi risulta molto lento però c'è un gran diciamo supporto all'ecosistema Redmi, Redmi ancora Android 13 dovrebbe arrivare HyperOS, è un po' una via di mezzo secondo me andrebbe un po' svecchiata l'interfaccia però ho trovato meno bug insomma un software che va abbastanza bene, sarà che i bug dei top magari le lentezze qua sono mixati con la lentezza tra virgolette del processore, mentre Honor 8x8b gli contesto sempre un po' il fatto del software bruttarello il fatto che se si fa swipe giù si entra nella ricerca per aprire notifiche bisogna fare swipe dall'alto insomma non mi fa impazzire pur avendo tutti e quattro i telefoni, tutte le funzioni che servono alla fine è Android quindi è vero la personalizzazione ma di base la differenza è poca non vi ho detto dei processori però differenza importante perché Realme e Redmi hanno lo stesso nuovo processore di Snapdragon 685 il Galaxy ha un Mediatek Helio G99 e l'Honor ha un processore veramente vecchio lo Snapdragon 680 che non è molto lontano dal 685 come numero ma mi sembra che sia di un anno, un anno e mezzo fa fotocamera, andate a vedere le schede tecniche sul blog per vedere le differenze hardware qua vi faccio vedere le differenze delle fotografie vi scorro questa foto fatta con poca luce poi questa foto macro con un effetto bokeh naturale non ho utilizzato l'effetto ritratto qua manca una fotografia quella del Realme perché la grandangolare il Realme non ce l'ha va così ma ha una cam principale così come quella di Redmi e quella di Honor a 108 megapixel e questa foto ha con la cam principale, Galaxy invece ce l'ha 50 megapixel con grandangolo 5, 8 megapixel il Redmi 5 megapixel ancora l'Honor sullo zoom vince il Realme che interpola nella miglior maniera i suoi 108 megapixel gli altri sullo zoom 10x lasciano un po' il tempo che trovano ovvio nessuno di questi smartphone è un camera phone, nessuno di questi smartphone fa delle belle foto sono tutte foto un po' così, van bene per i social, per chi non ha grandi pretese insomma su questa fascia va così, nemmeno l'Honor che costa un po' di più fa delle foto migliori questo è l'effetto bokeh software e questa è la camera anteriore che ha una qualità veramente più bassa rispetto a quelle posteriori quindi nessuno eccelli nulla ma direi primo ad esclusione della camera anteriore il Realme secondo l'Honor, terzo il Galaxy, quarto il Redmi con differenze che sono veramente piccoline invece sulla camera anteriore direi che Honor e Samsung vanno bene riproduzione musicale, anche qua ci sono delle differenze prima tra tutti il fatto che sull'Honor non c'è il jack per le cuffie c'è sugli altri telefoni, in basso Samsung e Realme, in alto il Redmi ma anche l'audio è diverso perché non tutti sono stereo partiamo con il Realme C67 che come vedete ha una sorta di Dynamic Island che in qualche applicazione è carina, non sono tante quelle supportate e ha l'audio stereo potente poi vi parlo della parte telefonica a 15 invece ha l'audio mono, meno potente, esce solo da sotto mentre il Redmi Note stereo e anche lui l'audio è più o meno in media mentre l'Honor anche lui è mono e come dicevo prima non ha il jack per le cuffie per quanto riguarda invece la parte telefonica non ho avuto nessun tipo di problema né di ricezione né di ascolto con qualsiasi di questi telefoni però non mi fa impazzire il dialer dell'Honor perché non vi avvisa dello spam è un dialer proprietario così come quello di Samsung che però vi avvisa dello spam invece preferisco io personalmente il dialer di Google che c'è su Realme e su Redmi che sono gli unici due telefoni che possono registrare le chiamate su tutti e quattro Conclusioni allora prendo qua il mio bigino lui costa 190 euro Realme C67 prendo prezzo Amazon come riferimento c'è anche la versione 628 a 160 euro tra l'altro i prezzi di destino sono più alti ma c'è la promozione perché lui è stato lanciato da pochissimo secondo me 160 euro 628 a 190 all'8256 ha molto più senso è quello che va meglio al netto della grandangolare ok unico senza AMOLED ma su sta fascia secondo me è importante la memoria i 256 giga sono veramente importanti e poi alla fine il display non è nemmeno così brutto ok angolo di visuale un po' meno bello rispetto agli AMOLED neri un po' meno neri ma voglio dire secondo me qua c'è altro di importante e lui è concreto e forse non togliendo il forse il più veloce del gruppo invece la 15 179 euro su Amazon è quello che va peggio quindi dal migliore al peggiore proprio per la velocità reattività per fare tutto per fare per esempio una foto ci mette tanto entrare nella fotocamera si schiaccia ora che scatta passano due o tre secondi avete visto adesso ho cercato di chiudere la fotocamera si è chiusa anche qua dopo due o tre secondi e questo porta a un'esperienza utente un po' così che voi direte ma mia nonna che gli frega mia nonna vuole Samsung perché è abituata alle icone sa che ha un negoziato sotto casa che glielo ripara e è affezionata al brand ci sta è un discorso che ci può stare per quello sta in questo confronto l'altro suo valore aggiunto è quello degli aggiornamenti software nel tempo però si è chiamato adesso vi ho detto prima chissà tra 5 anni Redmi Note 13 199 euro su Amazon la versione 6 128 è lì anche lui anche lui ha la versione 8 256 ma costa 50 euro in più 249 euro come processore se la gioca con il Realme schermo secondo me migliore ha il grandangolo ma come ho scritto qua è un po' meno aggiornato ancora Android 13 però anche lui devo dire che ha un senso e vi spoilerò il fatto che di Redmi Note 13 ci sono una pletora ce li ho tutti farò il video qual è il miglior Redmi Note 13 tra tutti arriverà prossimamente Honor X8B di listino lui 269 euro vedete me lo sono scritto qua si trova poco più di 200 andando un po' a cercare coupon offerte eccetera 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 io vi ripeto l'ho messo solamente perché a me piaceva tanto questa trama posteriore perché è abbastanza leggero perché è abbastanza sottile e però devo dire che a velocità lui non è meglio degli altri anzi viene dopo il Galaxy il più lento questo viene in terza posizione seconda posizione il più veloce è il Realme proprio perché c'ha un processore un po' vecchiotto ma lui mi dà modo anche di fare un ragionamento sotto i 200 euro di listino difficile trovare smartphone competitivi che vadano bene avete visto queste sono le nuove uscite e le prestazioni sono quelle che sono e allora forse se non volete proprio un telefono nuovo meglio rivolgersi al mercato dell'usato del ricondizionato garantito dove attorno ai 200 euro magari si trovano telefoni di un paio di anni fa ok gli aggiornamenti ma sicuramente più prestanti questa però è una scelta molto personale se volete un telefono nuovo qua c'è qualcosa che può fare per voi o l'altro tips è quello di andare sì sul nuovo ma anche qua di smartphone usciti da un anno un anno e mezzo che hanno ormai subito il calo di prezzo un saluto da andrea galazzi punto com spero di esservi stato utile arriverà anche il video penso dei telefoni sotto ai 150 perché alla fine su questa fascia di prezzo 50 euro di differenza sono il 25% del prezzo e fanno anche lì la differenza riuscirò a trovare i telefoni che alla fine vanno quanto meno sufficientemente bene vedremo ciao ciao